Chiaudà! Benvenuti alla terza lezione sui comandi oggi vedremo due frasi che si possono esprimere comandi la prima è usando la parola me che può significare dovere o bisogno di per formare questa frase cominciamo con me poi inseriamo il verbo moe, per esempio, che significa dormire alla fine inseriamo chi deve fare l'azione me moe que devi dormire me moe te pepi il bebè deve dormire me moe a Maria Maria deve dormire bisogna aggiungere la parola a prima di un nome proprio vediamo due esempi rivedendo delle parole che abbiamo visto in altre lezioni e, mentre ne impariamo, anche una nuova facarongo significa ascoltare me facarongo mai col tol dovete ascoltarmi guaiata significa cantare me guaiatatato dobbiamo tutti cantare la seconda è usando la parola usiamo chia per esprimere un desiderio perché qualcosa succeda si usa chia con quello che si chiama un verbo stativo o un verbo che esprime esperienza impareremo che sono questi verbi in un'altra lezione ora vedremo qualche esempio di applicazione di chia per acquisire una conoscenza di base chi ha caja si forte tere significa veloce chi ha tere si veloce tupato significa stare attenti chi ha tupato stai attento ora significa vivo in salute bene sicuro quindi quando diciamo chiaura che significa ciao o grazie la traduzione diretta è in realtà essere sano vivo bene sicuro è un bellissimo saluto bene tutto qui adesso conoscete altri due modi per dare un comando che qui te è in realtà che è in realtà è in realtà